Questo evento è estremamente importante, io sono veramente contento che sia stata scelta come sede la Basilicata. La Basilicata è una regione al centro del Mediterraneo, qui è la regione della Magna Grecia. Il fatto di averlo scelto su un territorio importante, perché non dimentichiamo che nella nostra regione insiste il più grande tracimento d'Europa di questi petroliferi, siamo proprio qui nella zona della Valdacchia. E chiaramente la riqualificazione dei territori, pensare non solo all'estrazione del petrolio, ma pensare al nonoil, all'eolico, al fotovoltaico, all'idrogeno green, credo che sia una cosa importante che deve impegnare tutti proprio nella riqualificazione di quei territori che una volta erano incontaminati e che forse hanno subito le dame. Noi abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un futuro migliore e quindi abbiamo l'obbligo di investire sul territorio con tutte le nostre forze per poter dare delle risposte che i cittadini si attendono. I cittadini si attendono delle risposte concrete, non a caso, a parte gli accordi ultimi che abbiamo concluso ieri proprio tra meni e scelta per il tema di compensazioni ambientali, abbiamo anche lanciato insieme alla società, io ho chiesto e ho voluto, la possibilità di dare il gas ai lucani, la molecola gas, gratuitamente in bolletta. Credo che questa sia un'operazione importante che gratifica un territorio che tanto ha sofferto e che tanto ha dato e che quindi è giusto che riceve in concreto qualcosa.